Nel primo olimpico ci vengono le maggiori soddisfazioni ed anche il maggior numero di medaglie, quattro. La quinta, sempre nel ciclismo, la vince il quarteto azzurro su strada. Questa è la finale della velocità che vede impegnato il nostro Gaia Ardoni e il belgar Sterks. Gaia Ardoni attacca l'esterno, uscita dell'ultima curva, sono impegnati a fondo, passa Gaia Ardoni! Primo Gaia Ardoni, secondo Sterks. Gaia Ardoni è campione olimpico della velocità individuale.